I dazi che vengono introdotti in questo momento dagli Stati Uniti sono su carte patinate e sono con riferimento in particolare alla Cina. La caratteristica di questi dazi è che non sono dazi anti-dumping come avviene nel 90% dei casi dei dazi, sono dazi compensativi. Cioè sostanzialmente il sistema americano sostiene che il sistema cinese sta entrando ormai in un contesto di mercato. In un contesto di mercato è possibile misurare in modo ragionevolmente preciso qual è il vantaggio che un'impresa ha ottenendo aiuti governativi. Gli aiuti governativi nel caso delle carte patinate hanno un peso che è stato definito dall'amministrazione americana tra il 10 e il 20%. Quindi verranno applicati questi dazi. Allora, come sempre, aspetti positivi e aspetti negativi. Qual è l'aspetto positivo? L'aspetto positivo è che sicuramente il mercato americano tende a liberarsi o perlomeno a limitare la capacità di un certo concorrente. L'aspetto positivo per noi europei è che ovviamente una parte di questo mercato liberato andrà in mano alle imprese americane, perché ovviamente questo è l'obiettivo, salvaguarda dei posti di lavoro, salvaguarda dei livelli di produzione, eccetera, eccetera. Una parte si libererà probabilmente anche per noi. Vediamo gli aspetti invece, non diciamo necessariamente negativi, ma più difficilmente prevedibili. Allora, il primo aspetto difficilmente prevedibile è che noi non sappiamo qual è il vero vantaggio delle imprese cinesi. Le imprese cinesi potrebbero ragionare in termini di sacrifici di prezzo, cioè abbassare il livello di profitto e mantenersi all'interno del mercato. Questo potrebbe avvenire soprattutto perché le imprese cinesi fanno molto affidamento su capacità produttiva, cioè su economia di scala. Il rinunciare a una parte del mercato potrebbe essere per loro molto pesante, non solo dal punto di vista di quello che non guadagnano, ma dal punto di vista dell'efficienza complessiva sulle produzioni. La seconda considerazione è che il sistema di commercio internazionale è una specie di sistema a vasi comunicanti. Se io comprimo da una parte, cioè se io abbasso da una parte il livello di potenziale mercato, quello che può succedere, ed è quello che in qualche modo era stato anticipato dal Presidente, è che la parte che viene abbassata tenda a mettere maggiore pressione da altre parti. Allora non sappiamo due cose, non sappiamo se effettivamente i produttori cinesi continueranno a rimanere negli Stati Uniti, ma la cosa che sappiamo è che se anche vorranno rimanere negli Stati Uniti, troveranno molto più, come dire, vantaggioso andare a esportare in paesi europei. E questo naturalmente significherà un aumento della pressione commerciale, e della pressione competitiva da parte dei produttori cinesi proprio sugli altri mercati. Il mercato europeo è un mercato naturalmente assolutamente appetibile per tutti e ovviamente anche per i produttori cinesi. Sotto questo profilo, quindi, il concetto generale che sarebbe interessante cercare di introdurre è questo. Operazioni di questo tipo sui dazi, i dazi governativi, sono operazioni molto interessanti e molto importanti dal punto di vista competitivo, ma dovrebbero essere prese in modo coordinato. Cioè il fatto di comprimere la concorrenza cinese all'interno di una sola area, farà sì che ovviamente tutta la pressione concorrenziale venga scaricata su altre aree. E siccome noi siamo un'area che nel tempo, e lo vedrete, come dire, più in là, ha subito una concorrenza, il settore delle carte patinate, scusate, delle carte grafiche in generale, è sicuramente uno dei settori che dal punto di vista del commercio internazionale ha subito negli ultimi anni una concorrenza da parte di una serie di paesi in via di sviluppo. Quindi questo elemento, naturalmente, potrebbe accompagnarsi da una parte a un'apertura di un mercato, dall'altra a una maggiore concorrenza. Quale sarà l'effetto netto di tutte queste tendenze? È molto difficile da dire. Cercheremo probabilmente di studiare la cosa e di dare una risposta ragionevolmente scientifica, ma naturalmente questo dipende anche da una serie di considerazioni e di strategie che verranno impostate dai produttori cinesi. Vi ho anticipato questo elemento perché mi sembrava un elemento piuttosto importante. Per quanto riguarda il settore della carta, direi che i punti fondamentali sono che è un settore nel complesso che è cresciuto negli ultimi anni essenzialmente con riferimento alla domanda estera. I consumi interni sono stati oggettivamente, ragionando nel complesso, in alcuni comparti più, in alcuni un po' meno, ma sono stati oggettivamente non entusiasmanti. In alcuni casi perché i consumi da parte delle famiglie erano relativamente bassi, in alcuni casi come la carta, per esempio, da imballaggio, carta e cartone da imballaggio, perché la produzione industriale non è andata particolarmente bene negli ultimi anni. E così, insomma, per tutta una serie di ragioni, il mercato interno non è stato un mercato, come dire, particolarmente attrattivo per i produttori di carta in questi anni. Sono cresciuti, la produzione è cresciuta, ma è cresciuta essenzialmente, trainata dai mercati internazionali. Ora, questo lo troverete, ma gli elementi che mi interessava in questo momento invece sottolineare sono una delle variabili che noi utilizziamo per la previsione, diciamo, all'interno dei modelli, è la dinamica del prezzo della cellulosa. Il prezzo della cellulosa, quello che vedete, è la dinamica del prezzo della cellulosa nel corso di un periodo ragionevolmente lungo, cioè nel periodo 1986-2006. Sono dati trimestrali. Allora, come vedete, per capire quale sarà il futuro sviluppo del prezzo della cellulosa, abbiamo utilizzato un modello che si chiama un modello Arima, cioè sostanzialmente un modello autoregressivo. Cerca di leggere sulle dinamiche passate le tendenze recenti. Allora, come vedete, il modello funziona molto bene fino al 2001. Fino al 2001 la dinamica del prezzo della cellulosa è stata una dinamica molto tormentata con dei, come dire, andamenti in alto e in basso che sfioravano, diciamo, il più 100% dai livelli più bassi e meno 50% dai livelli più alti, ma che aveva dinamiche ragionevolmente, anzi direi, scusate, non ragionevolmente, direi molto costanti, stabili. Cioè saliva, poi scendeva, poi saliva, poi scendeva, ma si poteva in qualche modo cercare di capire. Quello che succede a partire dal 2001 è quello che viene indicato nel quadrato rosso. Cioè il 2001 è stato un momento di rottura, probabilmente, di molti equilibri che ancora non sono stati recuperati. Allora, dal 2001, come vedete, la dinamica del prezzo della carta ha perso completamente il ciclo storico e ha avuto una dinamica assai più tormentata con una tendenza molto generale alla crescita a partire, senza più tornare verso il basso, a partire da livelli al di sotto della media di lungo periodo. Allora, quello che prevede il modello, e che naturalmente a questo punto diventa un po' più complicato, perché finché le dinamiche erano di questo tipo, era relativamente facile. Probabilmente utilizzare questo modello, anche dal punto di vista commerciale, poteva essere, come dire, una cosa interessante. A questo punto, ovviamente, il risultato è un po' più complicato da spiegare. Quello che ci aspettiamo, comunque, è, di nuovo, una crescita nel livello della carta, ma una crescita che non segua più le dinamiche molto forti del passato, ma che abbia un, come dire, un andamento un po' più, come dire, smooth in inglese, cioè un po' più edulcorato rispetto a quello che è successo nel passato. Ragioniamo sul PIL. Il PIL è un'altra delle variabili che utilizziamo. Allora, come stiamo andando? Come vedete, questa è la dinamica dei tassi di crescita del PIL, a partire dal 1970 fino alle previsioni al 2008. Quello che succede, che potete vedere immediatamente, è che noi abbiamo avuto momenti di fortissima crescita, cioè agli anni 70, momenti di crescita più limitata, cioè medio-alta agli anni 80, momenti di crescita positiva, ma relativamente più bassa, agli anni 90. A partire dal 2000, la dinamica è diventata molto più, come dire, ridotta. Abbiamo avuto momenti di crescita molto vicino allo zero e in questo momento, cioè le aspettative, diciamo, per quanto riguarda il 2007, sono aspettative intorno al 2%. Già l'anno scorso le cose sono andate oggettivamente bene, ci aspettiamo una crescita intorno al 2% e su questo sono tutti ragionevolmente, come dire, 1,9-2% sono tutti ragionevolmente concordi, ci aspettiamo una crescita relativamente più bassa, ma sempre comunque intorno all'1,7% negli anni prossimi. La considerazione generale è che ovviamente il tasso di crescita del PIB italiano comunque vadano le cose anche a livello internazionale, considerate che gran parte della nostra crescita è legata proprio al recupero di crescita di paesi, soprattutto in Europa, quindi Germania, Francia, eccetera, che stanno crescendo in questo momento più velocemente di noi, ma che in qualche modo, come sempre accade, trainano parte della nostra crescita.